Sì, diciamo che abbiamo dato fiducia e daremo fiducia alla candidata designata presidente perché le sue parole e i punti che ha espresso ci hanno tutto sommato rincuorato, diciamo che molti dei punti sono effettivamente i punti del nostro programma, non sarebbe stato coerente nella misura in cui ci sono state così tante aperture rispetto a temi così importanti e sensibili per noi come il salario minimo, come l'iniziativa del Parlamento europeo, come maggior flessibilità, come la condivisione degli oneri per quel che riguarda l'immigrazione, poi non sostenerla. È vero che sono comunque impegni programmatici, è altrettanto vero che noi saremo ben presenti e attenti a monitorare quello che verrà fatto nei prossimi mesi e anni.